Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questa nuovissima recensione dedicata al dogma del caos, il fucile da ricognizione del set del ride furia meccanica ottenibile all'ultimo step di Axis in normal mod. Come tutte le armi di questo ride avrai i perk fessi, la struttura sarà la stessa delle vecchie armi con due colonne composte da tre perk e due colonne composte da un perk singolo, il cui secondo perk sarà un perk unico di quest'arma e in più avrà un perk intrinseco. Incominciamo però come al solito delle statistiche, di base il dogma del caos avrà una cadenza di fuoco piuttosto bassa ma un impatto molto elevato, tra i fucile da ricognizione con l'impatto maggiore, ottima agitata, scarsa stabilità, normali tempi di ricarica e un caricatore di base di 12 colpi. Parliamo dei perk, come vi ho anticipato prima avrà un perk intrinseco, perk che sarà presente tutte le armi di questo ride. Il perk in questione sarà maleficio dello stravolgimento, quest'arma infligge danni extra ai caduti e bonus di agilità quando quest'arma è equipaggiata ed è ciò che generalmente rende utili queste armi proprio all'interno di questo ride. Nella prima colonna di perk poi troviamo le balistiche e quella che vi consiglio di utilizzare io è o il compensatore lineare per avere un rinculo principalmente verticale, più facile da controllare, o eventualmente la balistica di precisione per avere un singolo punto in più all'impatto. Nella seconda colonna invece potremo optare per caricatore esteso che aumenterà la capienza del caricatore a 16 colpi, ricarica rapida che velocizzerà i tempi di ricarica dell'arma, o calibro ristretto che aumenterà leggermente agitata e stabilità ma ridurrà i tempi di ricarica e la dimensione del caricatore a 10 colpi, quindi 2 colpi in meno. In questo caso vi consiglio di utilizzare o caricatore esteso nel pve, un caricatore di 16 colpi e abbastanza buono soprattutto grazie anche ai due perk singoli che andrò a mostrarvi a breve, o calibro ristretto nel pvp per avere un bonus alla stabilità anche se alla fin fine 10 colpi sono abbastanza pochi e nel complesso quest'arma non è propriamente da pvp, quindi non la utilizzerete praticamente mai lì ma se vorrete provarla io vi consiglierei calibro ristretto. Nel pve invece questo perk non è strettamente necessario, la cadenza non è molto elevata e il rinculo bene o male si riesce a gestire, nel caso in cui però non ce la facciate utilizzate calibro ristretto anche nel pve. Parliamo adesso invece dei due perk singoli, il primo sarà triplo colpo, i colpi precisi inflitti in rapida successione, per la precisione 3 colpi precisi inflitti in rapida successione ripristineranno un proiettile nel caricatore, vuol dire che se farete 3 airshot di fila automaticamente un colpo vi tornerà nel caricatore. Il secondo perk singolo e perk unico di quest'arma sarà triplo doppio, quando si attiva l'effetto del perk triplo colpo un colpo extra viene trasferito dalla riserva del caricatore, cosa vuol dire? Avete 3 colpi? Fate 3 airshot di fila? Le caricature ne avrete 2, uno che vi si sarà rigenerato grazie a triplo colpo e uno che si sarà spostato dalla vostra riserva al vostro caricatore. E in una situazione ideale in cui riusciamo a mettere a segno soltanto colpi precisi, un caricatore di soli 10 colpi ci consentirà di sparare ben più di 20 proiettili e l'efficacia di questi perk riesce a soppesare un po' il caricatore poco capiente. Di fatto però realisticamente parlando, una situazione del genere si verifica soltanto in alcuni casi particolari, ad esempio contro i boss, quelli del raid inclusi, che tra l'altro saranno anche dei caduti e del motivo principale per cui quest'arma risulta essere estremamente efficace. In conclusione, il dogma del caos è un'arma molto particolare e molto limitata. Nel pvp risulta essere praticamente inutilizzabile, nonostante basteranno soltanto tre colpi precisi per uccidere o in certi casi due headshot e uno al corpo, l'arma non potrà certamente competere con altri fucili da ricognizione, senza dubbio meno legnosi e più versatili. Nel pvp si comporta diversamente ma risulta essere comunque un'arma molto limitata, utilizzabile praticamente soltanto durante le boss fight che ci consentiranno di colpire ripetutamente il nostro bersaglio nel suo colpo critico. Tolti questi rari casi però, nel complesso, l'arma risulterà essere mediocre. Dunque ragazzi, per quanto riguarda il dogma del caos è tutto. Come al solito, io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!